Ciao a tutti, ciao ragazzi, con voi Slavi Ghering e il nostro video profumato, il nostro video legato alla parapsicologia, la ricerca attraverso chiaro il fatto, qualcosa di particolare legato a diverse capacità. E così oggi cominciamo con il primo profumo che per me rappresenta qualcosa di molto oscuro, una specie della paura delle ombre, la paura del buio, perché il buio spesso nasconde qualcosa di pauroso. E per me questo profumo dalla casa Robert Piguet che si chiama Oud Divine. Eccolo qui. Oud, come sapete, è sempre legato a qualcosa di lignoso, qualcosa profondo, qualcosa di molto dark, diciamo. Io uso molto spesso la parola dark nei miei video perché è veramente ultimamente, non so perché, ho visto che ho tanti profumi molto pesanti, profumi profondi e tanti di loro hanno proprio flacone di color scuro. Quello che in qualche modo rappresenta anche il profumo stesso nel suo colore. Oud Divine. Cosa rappresenta? Prima di tutto io sento qui caffè, oud e resine, poi note di cuore, fava tonka e note di base, paciuli e vitiver. È un profumo di un negozio esoterico, almeno per me, con tutti i profumi che ha un negozio di questo genere, i libri, resine, candele, poi le carte, incensi, tutto quello che si vende nei negozi di di oggetti esoterici, secondo me, un odore di questo genere. Qualcosa che nasconde. Immaginate una persona che è entrata per prima volta in un negozio esoterico. Non sa cosa trovare, cosa cercare, magari è entrato lì per caso. Semi buio, incensi, candele, simboli, piccole statuette che rappresentano varie divinità e la persona si perde, non sa cosa aspettare. da una parte ha paura di questa cosa, dall'altra parte è molto curioso. Secondo me questo profumo rappresenta proprio la curiosità per discipline esoteriche, però che la persona non è magari ancora pronta di lavorare perché ha tante paure dentro. Sì, per me è proprio così. Faccio molta fatica a portarlo perché magari io non ho paura di queste discipline perché ho la conoscenza. Per quello non lo uso molto spesso. Vi dico che è da tanto tempo che ce l'ho ma non sono ancora riuscita a portarlo più spesso. Non è la mia storia. Io non ho paura di queste cose. Anzi, quando vado in un negozio esoterico sono molto curiosa, so già cosa devo prendere e questo invece per un principiante con le sue emozioni di magari rispingere anche alcune cose perché sapete che nel negozio esoterico voi potete vedere le carte sataniche per esempio, la testa di una capra con pentagramma girata e queste cose quando una persona non lo sa cosa rappresenta spaventa. Io non spavento perché lo so che cos'è, non lavoro con queste cose, però so cosa rappresenta, non ho paura perché non mi avvicino a quelle pratiche, però comunque avete capito? Ud, divine, divino, perché comunque nell'esoterismo qualcosa di divino c'è perché non è soltanto una disciplina che porta verso il male, no? Con vari lavori esoterici si può acquisire delle conoscenze e comunque è un mondo fantastico. Se volete sapere qualcosa i libri legati all'esoterismo vi potranno portare a una maggior conoscenza di tante cose. Ok? Ecco qua. E il secondo, oh mi piace molto, avevo già nominato questo profumo in qualche video, questo per me è proprio un'iniziazione esoterica, un'iniziazione esoterica che si chiama Mortal Skin del brand Stefan Umbert Lucas 777. Sì, è un esoterismo, è un'iniziazione. Quando una persona sa già quello che sta cercando, ha già trovato quello che ha cercato e sta passando oltre per diventare un vero esoterista molto spesso, fanno i rituali di iniziazione e questo per me il profumo dell'iniziale. Mortal Skin, immaginate una un serpente che toglie la propria pelle. Un'iniziazione è proprio questo, quando tutto quello che tu eri prima togli per diventare un esoterista, mettere un'altra veste sopra, la veste della conoscenza, di un pratico. Per me questo profumo dove c'è anche l'inchiostro e come scrivere durante iniziazione la tua promessa, un giuramento. inchiostro ci sta. E' una magia interiore che sta uscendo. Con questa nuova pelle tu metti addosso qualcosa di molto mistico. un profumo particolare e anche bellissimo nel vedere il suo coperchio. Bello. Mamma mia è veramente un capolavoro. Complimenti chi lo ha creato. fantastico. Non è molto scuro anche se il flacone è nero ma c'è questa luce di iniziazione, un'illuminazione. Fantastico, fantastico. Il prossimo ho soltanto nel piccolo campioncino perché non sono pronta ad acquisire un intero flacone. nonostante mi ha incuriosito parecchio questo profumo perché nel suo essere mistico rappresenta l'oscurità, rappresenta l'inferno. della casa artisan parfumier della linea Papillon si chiama Anubis. Anubis è il dio dei inferi, dio dei morti però nel senso, nell'interpretazione magari un po' religiosa in modo come vedono il posto dove vanno le aime come un purgatorio. molto di fuoco, di scuro, molto balsamico, talcato ma è anche ambrato, sento qui il tabacco. è un dio dell'inferi, dio dei morti ma non nel senso del creatore, la luce, no, è proprio religioso e oscuro. Anubis è dio egiziano, perciò il loro per la loro religione hanno visto così la casa purgatoria di delle anime peccatori. strano, bello, lo utilizzerei in medianità magari se si fa un rituale nella medianità ritualistica, questo si medianità ritualistica dove tu puoi invocare qualsiasi aiutante anche di qualsiasi cultura che ti può aiutare a fare la connessione perché se ci sono veramente le anime in quella dimensione questa di purgatorio questo dio secondo me Anubis potrebbe aiutare Anubi Anubis può aiutare a fare la connessione. Devo provare una volta. L'ultimo è del brand Tiziana Terenzi che si chiama Laudano Nero. Anche di questo profumo avevo già parlato e per me questo proprio l'esoterismo nero come un rituale legato alle legature, al legamento, qualcosa che è fatto contro la volontà di una persona e la magia nera. Qui troviamo cognac, tobacco, ambra grigia, assenzio, mirto e rosmarino molto ricco tra l'altro nella sua piramide. Notte di cuore, cenere, miele, acacia, cedro, sandalo, rosmarino, iris e rosa rossa e note di base, incenso, utl, abdano, quercia, camforo, alloro, vaniglia, muschio, cashmere, muschio e vetiver. Un po' dolce ma questa dolcezza non è di luce. Come io ti faccio un bel ritualino che avvero i tuoi desideri riesco ad attirare a te la persona desiderata però è contro la sua volontà. Qua l'incenso non di chiesa, l'incenso di un rituale. Ho già sentito questa cosa prima nella nell'altro video che avevo fatto e rimango sempre con stessa impressione di questo profumo. Molto esoterico, magico ma nella scurità. Anche per oggi abbiamo finito. Piano piano vi aggiorno con altri profumi sempre su questa via così particolare nell'esoterismo, parapsicologia. Usiamo il nostro chiaro olfatto per poter scoprire i nuovi mondi. Scrivete qui sotto il video se anche voi avete a casa i profumi strani e che profumo secondo voi hanno le pratiche esoteriche sia nel bene che nel male. Ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao. Ciao.